Bene, buonasera a tutti, mi chiamo Ettore Boffano, sono giornalista di Repubblica e ho il compito di moderare questo dibattito che, vi devo dire subito, secondo me, ma vi rassicuro non sarà così, potrebbe andare avanti per molte ore, perché i temi che sono stati scelti e incrociati, peraltro da una persona che è tra i relatori, che è il deputato del PD Anna Rossomando, che è anche membro della Commissione Giustizia della Camera, sono temi molto caldi, come vedremo nell'attualità di questi giorni, in qualche caso di queste ore e il loro incrociarsi apre molte possibilità di discussione, di deviazioni dall'argomento principale, di approfondimenti. Cercheremo in realtà di essere molto sintetici e molto legati al tema che è stato dato nel titolo, che è legalità, democrazia e sviluppo ai tempi della crisi, per riassumere che cosa tira in ballo. Innanzitutto il problema della giustizia in questo Paese, la giustizia vedremo innanzitutto come sua efficienza, come sua funzionalità, ma anche gli attacchi che subisce la giustizia in questo Paese, l'ultimo libro del Procuratore Giancarlo Caselli si intitola attacco alla giustizia. La giustizia come in qualche caso Caposaldo, purtroppo come accade molto spesso in questo Paese, sostituto della politica rispetto alla difesa dei diritti del lavoro e della salute legata al lavoro, ne parleremo e vedremo anche sicuramente la crisi, che cosa significa la crisi rispetto al mondo del lavoro, alla sua attualità e chi ha ascoltato gli ultimi notiziari, prima di venire qui o guardato gli ultimi aggiornamenti dei siti internet, avrà visto che due ministri del governo Monti oggi pomeriggio, forse perché si sentivano scavalcati a sinistra da Diego della Valle e Cesare Romiti, hanno parlato della Fiat e hanno chiesto chiarezza immediata a Marchionne e agli azionisti della Fiat sul problema del futuro della grande casa automobilistica italiana, che è il cuore italiano, anche se oggi ha una grande propagine e direi il suo cuore economico negli Stati Uniti. E parleremo di come si può conciliare lo sviluppo con la crisi rispetto ai diritti dei lavoratori e al diritto alla salute dei lavoratori. Allora, proprio per questo, io forse deludendo qualcuno che si immaginava che chiedessi per primo a Caselli di intervenire, chiedo invece di intervenire per primo a Bruno Pesce. Chi è Bruno Pesce? Io penso, uso un termine retorico perché certe volte bisogna, io penso che noi dobbiamo essere abbastanza onorati oggi, tutti voi dovete sentirvi onorati insieme a noi, di ascoltarlo, perché Bruno Pesce è il presidente di una grande battaglia civile a lungo impedita e contrastata, fino a quando non ha avuto giustizia, avevano sete di giustizia l'hanno trovata a Casale Monferrato, ma in altri posti italiani che poi sono confluiti nel Tribunale di Torino per chiedere giustizia, per forse una delle più grandi stragi del lavoro, ma poi dell'ambiente che stava intorno al lavoro, di una terza comunità che stava intorno al lavoro, per l'amianto dell'Eternit a Casale Monferrato. Voi conoscete l'attualità di Torino, c'è stata una sentenza che ha condannato i due proprietari, uno ha un nome impronunciabile quindi non li pronuncio, ma sono stati condannati a 16 anni di carcere per quel disastro che perlomeno in quel processo chiedeva giustizia per 2.191 vittime, c'erano migliaia di costituzioni di parte civile, è stato forse il più grande processo d'Europa mai fatto, è stato un processo che ha attirato ma anche per presenza l'attenzione di tutte le comunità straniere che hanno a che fare con la strage dell'amianto e io vorrei chiedere a Bruno Pesce, se ci racconta com'è stato avere giustizia, è stato facile, a un certo punto c'è stata, c'è stata una sentenza, ma è stata facile la giustizia su questi temi, come si comporta, come si comportava? Grazie a voi per questa iniziativa, per me è un onore sedere accanto a un giudice, a un grande procuratore che di sicuro ha contribuito direttamente e forse anche indirettamente a poter raggiungere un risultato così enorme, storico direi, storico come la sentenza del 13 febbraio, sentenza che cosa ha riguardato? Ha riguardato, è venuta a seguito di un'indagine straordinaria, mai fatta in nessuna parte del mondo, usando anche metodi nuovi e metodi appropriati e questo è già uno dei nodi che abbiamo davanti, poi dirò qualcosa degli antefatti perché non può piovere dal cielo un processo del genere, si è lavorato 30 anni e qualcosa in più. Ecco dicevo, che cosa appare subito? Che quando ci sono dei morti e qui è stato detto solo a Casale purtroppo di vittime, proprio di decessi per l'amianto ne abbiamo già avuti, ormai comincio a dire quasi 2000, perché è da un paio d'anni che diciamo oltre 1800 e sono più di 50 all'anno che muoiono di mesotelioma, trascurando ancora qualche caso di asbestosi e di tumore al polmone e l'amianto che sono le tre patologie fondamentali. La novità anche nel metodo di indagine è che se si è presente ad un crimine, addirittura un crimine di dimensioni così enormi, perché oltre che i morti di Casale ci sono quelli che riguardano gli altri stabilimenti dell'Ethernet, tanto per darvi un dato, le parti civili erano 6.300, non è mai successo, 6.300 tra familiari di deceduti, di cittadini e di lavoratori e di ammalati, ammalati e di asbestosi e ahimè o di mesotelioma. Ecco, se c'è un crimine che si presenta di queste dimensioni, di questa profondità, con dei reati gravissimi, come sono apparsi fin dall'inizio, non era difficile in qualche modo pensare che ci fossero dei reati così gravi di fronte a una strage del genere che si è perpetuata e si perpetua ancora? Perché non si dovevano usare i metodi di indagine? Poi Dottor Caselli, io non posso avventurarmi molto su questo fronte, perché non sono un tecnico, però perché non si dovevano usare i metodi di indagine? Come si usano quando si ha a che fare chi commette un crimine? È o non è un criminale? Al di là che abbia i coletti bianchi, azzurri o verdi, al di là che rappresenti una multinazionale miliardaria come l'Eternit, al di là che rappresenti i personaggi tra i più forti, tra i più potenti d'Europa. Ma se c'è un crimine così grave vanno utilizzati tutti gli strumenti di indagine possibili. Mi pare già un punto che ha qualificato l'indagine della Procura di Torino, perché effettivamente hanno fatto dei sequestri e sono venute fuori cose che addirittura noi che ci siamo dentro da anni, non ne pensavamo neanche, ma a noi ha colpito molto perché eravamo lì sul posto e questo dolo che è stato naturalmente documentato da queste indagini e poi i giudici che hanno condotto il processo hanno fatto un lavoro straordinario, il dolo, cioè il sapere che metto a rischio della propria salute i lavoratori e i cittadini a Casale, pensate che tra quei 50-60 mesotelioma all'anno l'80% ormai riguarda la popolazione in generale e proprio perché la popolazione in generale l'età media dei mesotelioma si è abbassata, perché tra i lavoratori ormai ne sono già morti più di 1.100 e la Corte, cioè coloro che hanno subito un'esposizione da amianto sono di più i cittadini, essendo fuoriuscita la polvere dallo stabilimento e avendo invaso tutta la città. Quindi c'è già un metodo di indagine, un processo condotto in modo eccezionale alla base del quale c'è stato un lavoro così enorme che purtroppo non c'è stato in altre località dove operava l'Eterni, parliamo di Napoli in particolare, non di Cavagnolo, Cavagnolo è sempre stata anche alla nostra attenzione e che ha preceduto mediante quindi il far emergere, ecco qui un altro nodo, far emergere i casi, perché se i casi non vengono diagnosticati, se i mesotelioma sono sommersi, se non vengono diagnosticati specialmente negli anni passati, chi è che li può contare se non risultano? Chi li conta? Anche l'epidemiologo più bravo ce la dura, se non ci sono diagnosi rimane un filino difficile. Pensate voi in tre quarti del pianeta dove ancora si lavora l'amianto, parliamo di paesi più grandi, i paesi del mondo, quindi parliamo di Cina, di India, di Russia, in parte ancora purtroppo anche il Brasile, ma ci siamo, e ormai in Brasile forse ci siamo, pensate lì quante diagnosi hanno trascurato a livello di centinaia di migliaia, fino a non molti anni fa in Brasile non risultava neanche un mesotelioma, ma figuriamoci, ci sono le miniere oltre che le fabbriche. L'altro punto qual è? È che questa battaglia insegna una cosa che si sposa col titolo di questo incontro, legalità, democrazia e sviluppo. C'è una correlazione diretta tra, scusate se insisto sul tema di questa battaglia l'amianto che potrebbe riguardare Taranto o può riguardare qualsiasi altra situazione e riguarda anche l'inquinamento ambientale e non solo il luogo di lavoro. Comunque è affrontata in modo efficace semplicemente in rapporto, in primis se sono affermate le libertà democratiche e i diritti sindacali. In poche parole se esistono le libertà democratiche e i diritti sindacali. E secondo se vengono esercitate le libertà democratiche e i diritti sindacali una volta conquistati, se vengono esercitati. Allora in Cina siamo un po' scarsi da questo punto di vista. E se voi chiedete qualunque autorità cinese quanti mesotelioma ci sono, vi risponde Boo. In India è un paese molto contraddittorio, non è facile anche lì. In Russia con Putin siamo tranquillissimi, siamo a posto, siamo in buone mani. In Brasile che è una democrazia abbastanza giovane, ma con grossi interessi perché c'è anche molta estrazione. Loro lo esportano molto, anche la materia prima, l'amianto, va a finire poi in questi paesi che ho accennato e anche in altri, in tre quarti ancora del pianeta. Che libertà democratiche, che esercizio direi, in Brasile direi più che altro, che esercizio delle libertà democratiche e dei diritti sindacali sono esercitate? Non è facile, fino a non molti anni fa era dura, rischiavi la vita, si rischiava la vita. Noi siamo intervenuti nel nostro piccolo anche per difendere dei personaggi importanti come Fernanda Giannasi, che è un po' la passionaria della lotta all'amianto in Brasile, che è stata minacciata più volte, persino di licenziamento, perché è un ingegnere, un ispettore del lavoro. Ma poi, vedete, a noi abbiamo le libertà sulla carta, le libertà democratiche, i diritti sindacali, ma appena, 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 vuoi per la crisi, vuoi per fattori di crisi, vuoi per altri motivi, la società gira in una certa maniera, parlavo prima con degli amici qui, vecchi di età, vecchi di militanza sindacale assieme, è una parola pericolosa, parlavo prima all'entrata e poi ancora qui. Insomma, non era neanche compreso fino in fondo il perché qualcuno doveva continuare a occuparsi di un problema che aveva visto da noi la fabbrica chiusa nell'86. Giustamente mi domandavi prima cosa è. Nell'86 da noi l'Eternit ha chiuso su alta istanza di falimento perché noi avevamo già incominciato a vincere delle cause importantissime dove avevamo dimostrato contrariamente a quanto affermava l'Eternit che il rischio amianto sussisteva ancora in tutti i reparti e loro avevano già iniziato a non pagare più linei perché asserivano, come asseriscono in Brasile, come in questi paesi che ho accennato e ad altri in Africa e in Asia, man mano che la consapevolezza o se volete le libertà democratiche o i diritti sindacali si affermano e quindi c'è la maggior consapevolezza del rischio, come abbiamo detto anche nel processo di Torino si salta immediatamente a dire da parte delle multinazionali, delle imprese dell'amianto che forse prima c'era il rischio ma che adesso lo si lavora in sicurezza. Da noi, grazie all'aumento della lotta alla consapevolezza che cominciava ad affermarsi anche tra i lavoratori, questa svolta che avviene a seconda della consapevolezza del rischio, da noi è avvenuta ai primissimi anni 80 e noi nell'81 abbiamo promosso una causa, convinti di vincerla, per fortuna avevamo ragione, dove si è dimostrato che non era vero che si lavorava in sicurezza, ecco di lì con l'affermazione, grazie a una perizia del professor Salvini di Pavia, si è dimostrato che la lotta ha preso un maggior slancio, abbiamo ottenuto altri processi che non ci hanno soddisfatti, ma abbiamo ottenuto un piano di bonifica territoriale che è il primo in Europa di questo tipo, con 48 comuni che ottengono pur con dei ritardi, dei finanziamenti, con i cittadini che sono aiutati direttamente dall'autorità locale per lo sbaltimento, con incentivi cospicui per rimuovere e bonificare l'amianto, non so se mi spiego, ecco e quindi che cosa è venuto avanti? Noi cercando di fare il possibile per far emergere con centinaia di cause individuali anche, centinaia di cause individuali uno per uno in modo capillare, far riconoscere a tutti i lavoratori quelli che avevano l'asbestosi, doveva essere riconosciuta, che aveva l'asbestosi e quello che moriva di mesotelioma doveva essere riconosciuto che era morto di mesotelioma e fino all'87 se moriva di mesotelioma, prima non si diceva che era correlato all'amianto, pensate un po', non secoli e secoli fa, appena 87, l'Inai non riconosceva la correlazione all'amianto se non era accompagnato, in gergo si dice se non era mediato da un'asbestosi, cioè la malattia classica professionale che non è un tumore ma è un'invasione enorme di polvere di amianto nei polmoni a volte fino a farti morire soffocato, ecco questo è l'asbestosi. Questa immersione una per uno di questi casi ha contribuito a determinare consapevolezza tra i lavoratori e a capire che il sindacato era dalla tua parte fino in fondo e quando abbiamo messo in discussione l'amianto, certo che mogugnavano, ecco qui un'altra lezione, certo che mogugnavano i lavoratori perché la busta paga, lo dico sempre anche nel processo Torino, la busta paga per i lavoratori, anche un ambientalista, mi ritengo anche ambientalista, magari in modo non del tutto soddisfacente forse, la busta paga non è un optional, quindi anche il movimento degli ambientalisti da noi a Casale l'ha capito subito questo, per fortuna e siamo sempre stati tutti uniti con la Lega Ambiente e WWF fin dalla loro insorgenza di queste associazioni e si deve capire che anche a Taranto non possiamo aspettare oppure scaricare sul lavoratore che deve essere lui a chiedere che si chiuda la fabbrica dove porta a casa la busta paga tutti mesi, uno, io l'ho anche detto più volte, può avere 50 lauree, ma se fa un'affermazione di cui se praticamente la sua posizione tende a corresponsabilizzare o addirittura a colpevolizzare il lavoratore che non ha fatto chiudere la fabbrica dove lavora, se si parte da questo concetto siamo finiti. Posso fermare? Ma come no? Secondo l'intervento, prego. Grazie. Giancarlo Caselli nella sua vita di magistrato è stato tante cose, è stato il giudice istruttore che ha inquisito e sconfitto le Brigate Rosse, è stato il magistrato che pochi mesi dopo la morte di Falcone e Borsellino chiede di andare a guidare la Procura di Palermo e nella Procura di Palermo tenta, prova a inquisire il famoso terzo livello, la politica collusa con la mafia, fino a sostenere l'accusa contro uno dei capi della politica italiana, dei grandi della politica italiana, Giulio Andreotti, nel processo Andreotti. Poi è tornato a Torino, oggi guida la Procura di Torino, procura che su questi temi ha chiesto la condanna e le ha ottenute per l'Eternit, è stata la Procura che ha dovuto chiedere e ottenere la condanna e questa è una sentenza con meno morti, con meno parti civili sicuramente, ma anche quella della ThyssenKrupp che però è una sentenza altrettanto importante, è molto innovativa perché è la prima volta che è stato contestato l'omicidio volontario per chi sapendo, era consapevole che la mancanza di sicurezza e di misure di sicurezza nel posto di lavoro poteva provocare quegli effetti che ha provocato ed è per la prima volta in Italia si è posto questo reato davanti a un tribunale, davanti a una corte d'assise, anzi corte d'assise perché è un omicidio volontario e si è ottenuto la condanna. Io ricordo anche che Caselli da giovane, quando era all'inizio, non tanti anni fa, fu tra i fondatori di una corrente che esiste ancora, una corrente sindacale dei magistrati che si chiama magistratura democratica e se non ricordo male, agli inizi magistratura democratica fece proprio dei temi che riguardavano il diritto del lavoro e la tutela della salute in fabbrica, una delle grandi battaglie di tentativo di cambiare la magistratura in Italia, magistratura che era dominata da un antico modo di pensare che era il modo di dire Montesquieu, il giudice è la bocca della legge, deve fare solo quello, c'è la legge e non può andare oltre, non deve occuparsi d'altro, deve essere… Magistratura democratica chiede ai magistrati di essere dei magistrati che non avevano paura di toccare i poteri forti, un'espressione che allora non si usava ancora e poi è venuta dopo, ma la sostanza è questa, che la legge non guardasse in faccia a nessuno e che fosse applicata soprattutto all'inizio su questi temi qui, quelli del lavoro, quelli della salute in fabbrica, dei diritti dei lavoratori. Ecco allora vorrei chiedere a lui se ha voglia, partendo da questi temi di dirci qual è lo stato della giustizia oggi in Italia, se la giustizia risponde a queste richieste, se è sempre efficiente da una parte e dall'altra quali sono le risposte che dalla società vengono e che possono essere di grande sostegno ma anche di grande attacco, di grande contrasto verso i magistrati che invadono delle aree che si ritiene non dovrebbero essere invasi dei magistrati. Buongiorno a tutti e grazie della vostra folta presenza che è una cosa che indubbiamente fa piacere, tanto per non usare eufemismi. Per rispondere alla domanda di Ettore Bofano credo necessario e utile ricollegarmi all'intervento che abbiamo ancora appena ascoltato di Bruno Pesciano. Innanzitutto per fare una considerazione, nel processo cosiddetto Eternit, lo avete sentito, ci sono state ben 6.300 costituzioni di parte civile, un vero e proprio record, ma l'importanza di queste costituzioni di parte civile non sta soltanto nella quantità, nel numero, sta anche, e lo abbiamo avvertito tutti, lo abbiamo sentito, respirato tutti un attimo fa nella qualità di alcune di queste parti civili per le motivazioni, la preparazione, la passione, la partecipazione al dibattito su questi temi, trentennale praticamente, che con le sue parole Bruno Pesci ci ha testimoniato. È stato generoso Bruno Pesci nei confronti della procura di Torino, parlando di metodi di indagine applicati finalmente a questo tipo di inchieste e non soltanto alle inchieste tradizionali, grandi crimini che occupano le pagine dei giornali, mentre purtroppo gli incidenti sul lavoro, i problemi legati alla sicurezza sul posto di lavoro occupano non le pagine, ma quando va bene qualche colonna dei giornali, se non delle ipotesi di tragedie tali che non si può fare a meno di parlarne e parlarne ampiamente. Ecco, ha colto il segno Bruno Pesci parlando di metodi di indagine nuovi per questo tipo di violazione di legge, mutuati dalla tradizione e dall'esperienza maturata su altri versanti. Ha colto il segno perché ci ha dato una chiave di lettura decisiva per quanto riguarda la storia della magistratura addirittura e in particolare il tema che oggi ci vede qui, legalità, democrazia e sviluppo, perché c'era una volta che non soltanto non si applicavano metodi di indagine incisivi agli incidenti sul lavoro, alla tutela della sicurezza e della salute sui posti di lavoro, c'era una volta, e parlo di una sessantina d'anni fa, di quattro plestocene fa per dire, ecco, una sessantina d'anni fa i procuratori generali della Corte di Cassazione e delle varie corti d'appello inaugurando l'anno giudiziario, quindi con tanto di toga rossa e ermellino, parlando ex catedra nel momento più solenne dell'anno giudiziario appunto, quello dell'inaugurazione, negavano, negavano, negavano di fatto l'esistenza di un problema di sicurezza sui posti di lavoro. Gli incidenti che accadevano sui posti di lavoro erano dovuti alla fatalità, al destino cinico e varo, con sotto sotto e qualche volta neanche troppo sotto sotto un accenno ad una certa qual tendenza, mi vergogno persino a dirlo, al suicidio da parte degli operai, cioè a una certa tendenza degli operai da non rispettare l'ombra di sicurezza, quindi colpa loro se poi certe cose succedevano. Oggi le cose sono cambiate, Bruno Pesce ce l'ha ricordato accennando ai metodi di lavoro della Procura di Torino, che è uno dei tanti esempi che si possono fare, e sono cambiate da quando, ecco la parte iniziale della domanda di Ettere Vofano, non solo magistratura democratica, tanti magistrati italiani, magistratura democratica insieme agli altri, in particolare se volete magistratura democratica, ha cominciato a, la parola potrà persino stupirvi, sembrarvi fuori luogo, scoprire la Costituzione. Cosa intendo? La Costituzione, lo sapete tutti, è del 1948, cos'è che uno la deve scoprire? E sì, sappiamo che è del 1948, ma per entrare in vigore in alcune sue parti fondamentali, la Corte Costituzionale per esempio, ma il Consiglio Superiore della Magistratura anche, devono passare 15-20 anni, altrimenti queste parti veramente portanti della Costituzione rimangono, sono rimaste a lungo in un cassetto. Quando la Costituzione comincia ad essere operativa in tutte le sue articolazioni, e qui si tratta del Consiglio Superiore della Magistratura che avrà tutti i difetti di questo mondo, ma ha una qualità scritta nella Costituzione, scolpita nella Costituzione, quella di essere lì a presidio dell'indipendenza della magistratura, se un magistrato fa qualcosa che non piace a questo, quel potente di turno, quel magistrato può sperare, contare nella protezione, nella tutela della sua indipendenza da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, mentre prima il magistrato che dava fastidio veniva trasferito, Tucur, in Sardegna e non se ne parlava più. Ecco che i magistrati sono tutelati della loro indipendenza e scoprono la Costituzione, il famoso, ancora oggi, articolo 3 capoverso, che fa obbligo a tutti gli organi della Repubblica, quali che siano, magistratura compresa, di attivarsi in concreto per migliorare la situazione per quanto riguarda la tutela dei diritti, per quanto riguarda la ricerca di una maggiore uguaglianza fra tutti i cittadini. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che è compito, vuol dire che si deve fare, non è un optional che si fa quando le cose girano bene e non si fa quando le cose non girano troppo bene, comunque girano le cose, bisogna cercare, articolo 3 capoverso, è compito della Repubblica di farle andare meglio nel senso della maggior tutela dei diritti e questo è successo, è la storia del nostro Paese, la storia della magistratura, perché arrivare alle inchieste come ThyssenKrupp e come Eternit è la prova che quello che si diceva 50 anni fa, gli incidenti sul lavoro sono mera fatalità, destino cinico e baro, non è più così. Pur essendovi, è chiaro, un'infinità di cose ancora da fare su questo versante, il Capo dello Stato giustamente, molte volte, frequentissimamente ci ricorda che siamo ancora in posizioni purtroppo di alta classifica per quanto riguarda il numero degli incidenti sul lavoro, con all'interno della nostra classifica un posto di assoluto rilievo per gli immigrati che hanno maggiori probabilità di farsi male nei nostri cantieri di quante non ne abbiamo noi indigeni. Ecco, tutto questo ci dice che alcune cose vanno meglio, sia pure in parte fermi restando enormi problemi, ma soprattutto nella stagione che stiamo vivendo ci sono molti diritti scolpiti nella Costituzione, scritti nella Costituzione che non sono sufficientemente tutelati, quando non addirittura troppo frequentemente violati. Innanzitutto purtroppo il lavoro che molte volte non c'è, troppe volte non c'è e quando c'è il lavoro che è precario o nero o insicuro proprio per quanto riguarda la salute e la salvaguardia del lavoratore. Mentre povertà ed emarginazione si estendono, crescono in misura esponenziale, di nuovo purtroppo, tanto da diventare anche un problema di cui si occupano le cronache cittadine se non quotidiane quasi, nel momento stesso in cui la più parte del reddito del nostro Paese rimane concentrata in pochissime mani e l'estendersi della povertà e dell'emarginazione è l'interfaccia dei diritti che invece di crescere nel senso dell'uguaglianza fra i cittadini vengono sempre meno tutelati e le disuguaglianze galoppano. Poi c'è la mafia che è un problema di democrazia, è un problema di sviluppo, non soltanto è un problema di legalità e di violazione di legge. I mafiosi sono criminali che commettono una serie infinita agli delitti, dalle stragi, agli omicidi, al traffico di sostanti stupefacenti, di armi, di rifiuti tossici, al riciclaggio del denaro sporco, agli appalti truccati etc., ma accumulano anche in questo modo, anzi è l'obiettivo principale della loro azione criminale, quantità purtroppo, ancora una volta purtroppo, imponenti di denaro e in questo modo hanno un'incidenza sullo sviluppo economico del nostro paese e quindi sulla qualità della democrazia del nostro paese imponente. Per quanto riguarda il mezzogiorno, c'è una ricerca del Censis di qualche anno fa, non potete ancora trovarla su internet, che ha calcolato gli effetti delle mafie sulla economia del mezzogiorno, arrivando alla conclusione che le mafie zavorrano questa economia, ne impediscono lo sviluppo, zavorrare, la tengono schiacciata a terra. Per effetto di questo zavorramento ogni anno nel mezzogiorno a causa delle mafie si perdono 185 mila posti di lavoro in più rispetto a quelli che ordinariamente non ci sono e sempre a causa delle mafie nel mezzogiorno ogni anno si produce ricchezza in meno pari a 7,5 miliardi di Euro, un'infinità di ricchezza in meno, mafia uguale impoverimento, mafia uguale impedimento di uno sviluppo ordinato che provi, almeno provi ad andare a vantaggio di tutti. Il discorso mafia che impoverisce, mafia che blocca o inceppa lo sviluppo economico ormai vale anche per il centro e il nord del nostro paese, perché è una realtà fuori discussione che i mafiosi le loro ricchezze per poterle effettivamente godere le debbono ripulire e le ripuliscono investendo oggi come oggi soprattutto al centro e al nord d'Italia, il che significa però che l'economia illegale, anche mafiosa, sta sempre più penetrando nell'economia illegale e la avvelena, la inquina, con effetti che non possiamo non cominciare ad affrontare decisamente nella loro importanza, perché l'economia in generale funziona per fare gli interessi degli economisti, degli industriali, dei grandi finanzieri eccetera, non c'è dubbio, però in un'economia normale una buona parte dell'economia stessa può essere, viene utilizzata a vantaggio della collettività in vista del conseguimento degli interessi di carattere generale. Un'economia controllata dalla mafia o caratterizzata da una forte presenza illegale e mafiosa è un'economia che anche quel poco che cerca di fare a vantaggio della collettività lo farà sempre di meno, perché se ci sono degli egoisti, dei criminali egoisti che pensano soltanto a se stessi sono i mafiosi. I diritti poi sono legati nel carcere, un altro problema enorme, posso soltanto accennarvi, il carcere dovrebbe essere anche luogo di rieducazione oltre che di espiazione di pena, la rieducazione è sempre più improbabile per non dire sempre più impossibile, quantomeno sempre più difficile e il carcere invece oramai ha una forte caratterizzazione, lo dico con tutto rispetto per i soggetti detenuti, tutti meritano il rispetto ancorché detenuti, sempre più una caratterizzazione di discarica sociale. Nel carcere si fanno confluire problemi che noi non siamo in grado di risolvere, la tossicodipendenza, l'immigrazione clandestina, la stragrande maggioranza ormai di detenuti appartiene all'una e all'altra categoria e non sono problemi che si possono risolvere soltanto con le manette, nei casi estremi si vogliono anche le manette, ma nell'ordinaria amministrazione ci vorrebbe qualcos'altro, welfare, problemi di salute quando si tratta di risoluzioni dipendenti via seguità. I diritti poi sono non tutelati così come dovrebbero nel momento in cui nel nostro paese, purtroppo ancora una volta, quanti purtroppo mi avete già sentito dire, mi sentirete dire ancora, purtroppo abbiamo due codici, due processi, uno per le persone considerate per bene a prescindere e un altro processo invece per i cittadini qualunque, per i cittadini normali, per i cittadini considerati per bene a prescindere in base al ceto, in base alla classe cui appartengono. Il processo non funziona, sappiamo che nel nostro paese il processo purtroppo non funziona, ma il non funzionamento gli va bene, perché non funzionando il processo ha maggiore probabilità di arrivare alla prescrizione, cui questi signori ambiscono, sperano, prescrizione che cancella tutto. Invece per i cittadini normali, per i cittadini qualunque il processo non funziona, ma pur non funzionando, molto più che nel primo caso può incidere anche pesantemente sulla libertà, sui beni, sugli interessi, sulla vita di relazione dei cittadini. Con sullo sfondo la richiesta dei potenti e dei prepotenti di essere liberati da ogni regola, la pretesa all'impunità con leggi ad personam o con processi che si vorrebbero piegare agli interessi personali o di cordata, con il rischio di… Ho finito l'interno? No, no, ti voglio chiedere una cosa. Perché io colgo l'applauso che riguarda le leggi ad persona, ma sappiamo che riguarda, ma ti vorrei chiedere questo. Tu stai dicendo che la giustizia quando tocca i prepotenti o chi vuole essere slegato dalla giustizia, la attacca la giustizia. Tu sei stato oggetto a Torino di un strano attacco, perché sei stato oggetto dell'attacco e criticato perché hai guidato una procura che ha fatto l'inchiesta sulle violenze intorno ai cantieri della TAV e sei stato attaccato. Quindi questa cultura di dire io non voglio subire giustizia, non voglio essere inquisito e dilagata ed è scesa a livelli molto diversi da quelle dei prepotenti che stanno in alto. Certamente. Prima, e non voglio farla troppo lunga, cercherò di essere quanto più possibile sintetico, ancora una parola sulle leggi ad persona, ma che hanno evidentemente interessato e ringrazio chi mi ascolta. Perché non c'è soltanto il fenomeno delle leggi ad persona in sé per sé considerato che è già una nefandezza, diciamolo, perché le leggi dovrebbero essere, per definizione, scritto in tutti i manuali, lo abbiamo imparato sui banchi dell'università, chiunque si occupi anche sommariamente di questi problemi lo sa, ce l'ha dentro, le leggi dovrebbero essere generali ed astratte, cioè curare interessi generali da un punto di vista astratto senza riferimento più di tanto a questo o quell'altro caso specifico, meno che mai a questo o quell'altra singola persona. Se invece ci sono leggi ad persona, ecco nell'ordinamento giuridico complessivo, una vera e propria nefandezza. Ma non bastano, se volete, le leggi ad persona, perché c'è un altro profilo su cui forse non abbiamo mai riflettuto a sufficienza. Ed è l'uso strumentale, propagandistico, devastante, nefasto, che degli effetti di certe legge ad persona è stato sistematicamente fatto. Parlando del falso in bilancio, voi sapete che una volta il falso in bilancio era reato anche nel nostro paese e quindi ecco che cominciano 10-100 mila processi per falso in bilancio, processi anche facili perché di solito il falso documentale non ci vuole tanto per arrivare alla prova sufficiente, ma mentre tutti questi processi erano aperti, in corsa per così dire, ecco che interviene una legge della categoria legge ad persona che depenalizza sostanzialmente il falso in bilancio che non è più reato, per cui tutti questi processi 10-100 mila cominciati quando il bilancio era un reato, ecco che si concludono necessariamente. Oramai la legge è così, la legge è cambiata con la formula scritta a tutte le lettere nel dispositivo, assoluzione perché il fatto non costituisce più reato, questa parolina più c'è soltanto in questi processi perché è cambiata la legge, ma brutto cambiare la legge mentre il processo è aperto, cambiare le regole a partita cominciata, brutto, ma ancora più brutto se poi chi è stato sottoposto una 10-100 mila volte a un processo per falso in bilancio e una 10-100 volte è uscito assolto perché ha cambiato o si è giovato del cambiamento della legge, va poi in giro, come è successo e magari succede ancora oggi nel nostro paese, a dire vedete mi hanno processato una, due, tre, dieci, cento, mille volte e una, due, tre, dieci, cento, mille volte sono uscito assolto, ce l'hanno con me, sono dei giustizialisti, mi perseguitano, questo è un meccanismo, ma la domanda di Ettore Bofano, il nostro paese per quanto riguarda la giustizia è caratterizzato da una crisi di efficienza della giustizia stessa, ma anche da una crisi di cultura, oltre che da una crisi, se ci sarà tempo, vi dirò, se avrete voglia di ascoltare naturalmente, che cos'è la crisi che io chiamo dell'asticella, quando superi certi limiti occupando di determinati problemi. La crisi di cultura in che cosa consiste? Nel fatto che una volta l'intervento giudiziario veniva valutato con riferimento alla sua correttezza e al suo rigore, e si parlava di correttezza, di rigore, di giustizia. Oggi non è più così, oggi è una maniera assolutamente diffusa, trasversale, che è cominciata con Berlusconi e il berlusconismo, poi è dilagata un po' ovunque altrove, l'intervento giudiziario viene valutato, giudicato in base ai criteri dell'utilità, del vantaggio e della convenienza. Se tu, magistrato, fai qualcosa che mi piace, che mi conviene, ti lascio tranquillo, o addirittura parlerò bene di te, ma se fai qualcosa che non mi piace, che non mi conviene, perché incrocia determinati interessi, che ad essere sottoposti al controllo di legalità non ci stanno, vogliono essere diversi da tutti gli altri cittadini, ecco tu devi mettere in conto che sarai attaccato, sarai oggetto di insulti, sarai oggetto di minacce, sarai oggetto di pressione, sarai oggetto di quello che, e te l'ho ricordato, nel libro definito assalto alla giustizia. Questa maniera di valutare gli interventi giudiziari, una specie di giustizia alla carta, che va bene per gli altri e mai per me, e mai per quelli che appartengono alla mia accordata, questa maniera di valutare l'intervento giudiziario in base alla propria convenienza, è una maniera devastante, che non ha niente a che vedere con la democrazia, tende a creare cittadini di serie A e cittadini di serie B, chi può farsi sentire perché ha le televisioni o perché è un prepotente, ecco che pretende che la giustizia per lui non ci sia o funzioni come piacerebbe a lui. In una certa misura è successa non per il movimento Notav, attenzione, il movimento Notav è una cosa, io non lo so, ho le mie idee, ma questa è la sede per esporle, ma non c'entrano con quello che sto per dire, il movimento Notav può anche avere tutte le ragioni di questo mondo, io non lo so, e però se con riferimento al movimento, senza che il movimento molte volte prenda nettamente, fermamente le distinzioni necessarie, se con riferimento comunque al movimento vi sono anche soggetti più o meno organizzati che praticano sistematicamente la violenza contro le forze dell'ordine che sono comandate a presidio, a difesa di un cantiere di lavoro commettendo violenze, siccome su questo argomento molto frequentemente si arriva, ho qui una pagina del Tribunale della Libertà, non della Procura della Repubblica di Torino, del Tribunale della Libertà, un organo terzo assolutamente indipendente, non ve la leggo, ma che cosa è successo nel giugno-luglio dell'anno scorso? In questa pagina è scritto, si parla di potenza micidiale dell'azione esercitata contro le forze dell'ordine, si parla di azione organizzata, di carattere versivo, quando di fronte a questi comportamenti un ufficio giudiziario, in questo caso la Procura della Repubblica di Torino, fa il suo dovere, applica la legge, non si volta dall'altra parte, criticare si può e si deve sempre, qualunque attività pubblica di funzione pubblica alla magistratura tra le tante altre, forse in testa di tutte le altre, deve essere soggetta al controllo sociale, alla critica, ma non all'insulto, non all'attacco, non alla delegittimazione, qui sono successe cose che appartengono a questa seconda categoria, nei confronti miei personali, nei confronti del mio ufficio, nei confronti del nostro lavoro, lo scopo è evidente, non vogliamo essere processati, non vogliamo che giustizia vi sia, non vogliamo giustizia, non vogliamo processo e se qualcuno ci prova sappia che può succedere di quello che è stato scritto sui muri, Caselli morirai, Caselli come Moro, Caselli come Ramelli, Caselli ti ruberemo la salma e via seguitanno, questo con la democrazia non ha assolutamente niente a che vedere, questa è intimidazione, questa è minaccia e non è tanto un problema che riguarda me, certo riguarda anche me, non mi fa piacere che sui muri ci siano queste scritte, mi preoccupa anche tra l'altro, ma attraverso me riguarda la giurisdizione, l'esercizio sereno, indipendente della giurisdizione, chi scrive queste cose sui muri e fa i bliss perché non si possano presentare i libri, avete visto questa sera quanto polizia c'è? Perché ci sono ancora dei problemi, io ho questi uomini che sono qui oggi pomeriggio, non posso fare altro che ringraziarli, ma ringraziandoli constato che ci sono ancora dei problemi, le critiche sì, ma tutte le critiche di questo mondo, ma qui siamo lungo un'orbita diversa, è l'orbita della difesa non tanto nel, ma dal processo, la difesa contro il processo, il rifiuto del processo e quindi l'attacco a coloro che magari criticabili per questo o per quell'altro versante, in sostanza cercano soltanto e unicamente di fare il loro dovere applicando la legge. Anna Rociomando che ha pensato, io non mi ricordo più quando mi hai telefonato per chiedermi di moderare questo incontro, se c'era già la vicenda Ilva aperta, che ha dominato questa estate, che è emblematica del ragionamento che stiamo per fare. Vorrei ricordare che in l'Ilva ha avuto un precedente altrettanto importante in questa regione, che è la vicenda dell'acna di Cencio, io quasi tutti i sabati quando sono qui a moderare dibattiti, cammino spesso sul ponticello pedonale di Cortemiglia che attraversa il Bormida e lo vedo oggi pulito con le paperette, i pesci etc. e mi ricordo invece che cos'era e ricordo che era un grande dramma, un grande conflitto, si chiude l'acna e si mandano a casa i lavoratori o si salva l'acna e si continuano a inquinare e si lasciano. Fu un dramma anche tra due regioni, in quel momento governati tutti e due dalla sinistra, perché in Liguria si diceva una cosa, perché lì c'era l'acna e in Piemonte che riceveva l'acqua del Bormida inquinata, se ne diceva un'altra. Fu un dramma per quello che allora era l'unico quotidiano di Torino, che aveva le vendite in Piemonte e vendeva Cortemiglia in tutta la Valle Bormida, ma vendeva anche in Liguria, aveva anche le edizioni Liguri, era un problema di marketing rispetto ai propri lettori, perché era una linea difficile da scegliere. Ecco, l'ILVA è diventato un problema come questo ed è un problema che assomiglia ancora molto di più dell'acna alla vicenda di Casale, perché la polvere di ferro... Io ho lavorato tre anni in Puglia e ho visto l'ILVA in funzione di notte, dove è mostruosa ma è bellissima, è affascinante, sembra la fucina di vulcano enorme. Di giorno invece è una cosa impressionante, perché capisci che è una fabbrica di veleni, che sono questa polvere di ferro che arriva e che provoca cancro nel quartiere Tamburi, che è il quartiere più vicino. Allora, lì c'è un'ordinanza del GIP di Palermo, di Taranto, che ha detto si chiude e si bonifica e per bonificare si chiude, si potrà continuare a produrre, ma prima si fa la bonifica ed è necessario chiudere. A questo è cominciata la rivolta, la rivolta che dice noi dobbiamo lavorare. Allora, in tempi di crisi, dove i posti di lavoro già si perdono, come si concilia queste due cose, il diritto al lavoro e il diritto della salute nel lavoro e delle comunità che stanno intorno al lavoro? Sì, ma intanto io voglio dire questo, siamo un po' a conclusione della nostra festa e abbiamo discusso sotto tantissime angolazioni aspetti dell'utilità e della funzione della politica ai tempi della crisi e naturalmente ci viene sempre ricordato ai tempi del cosiddetto governo tecnico. Allora, la tua domanda mi induce a rispondere, tenendo anche conto delle cose di cui abbiamo discusso in questi giorni, che la politica, la buona politica serve esattamente a questo, a fare in modo che un lavoratore non debba mai, mai essere messo nelle condizioni di dover scegliere se avere il salario a fine mese o salvaguardare la salute. Questo è il punto, perché è evidente che le leggi devono essere applicate e noi riteniamo che le leggi dopo l'entrata in vigore della Costituzione e con quel percorso democratico che è stata la lettura costituzionalmente orientata anche di leggi che venivano da prima della Costituzione del 1948, questa è stata la grande funzione di un cambiamento anche dell'approccio all'applicazione della legge da parte dei giudici e dei magistrati che hanno senza dubbio cambiato in senso progressivo la carta e l'applicazione dei diritti nel nostro Paese. Ecco, che allora sicuramente mi viene da dire che quello che è mancato a Taranto prima è stato anche l'esercizio di una buona politica, perché questa è la funzione della politica, che quando la politica non occupa il suo spazio, in questi casi come in altri casi, non rimane che poi lo spazio spesso appunto nel momento della punizione, della sanzione, che naturalmente ci deve essere ma non può essere sostitutivo della politica. Ora, questo è un punto, dato che ci si chiede spesso, ci chiediamo spesso che cosa c'è dopo Monti, l'agenda Oltremonti, io penso che necessariamente ci sarà, se non altro perché andremo a votare in primavera, allora io penso che uno dei punti, dei contenuti dell'Oltremonti sia questo, dell'agenda nostra, del Partito Democratico, è una delle differenze tra noi e gli altri, è che mentre noi col governo Prodi abbiamo messo nuove norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche innovando, non solo pensando a norme di tipo sanzionatorio, ma anche a norme di tipo premiare per coinvolgere anche l'impresa in questo, quindi norme premiale, la prima cosa che ha fatto il governo Berlusconi è stato smantellare quelle norme sulla sicurezza del lavoro, allora noi adesso stiamo sanando i conti, le politiche di rigore e quant'altro, ma noi quando andremo al governo adesso stiamo provando a reintrodurre e c'è un cambio di passo, perché guardate, vi garantisco, io sono nella prima legislatura, questi 4 anni con le leggi ad persona, ma per noi che eravamo l'opposizione, il grande risultato l'ottenevi e non sempre se bloccavi una legge, se la bloccavi, non se riuscivi a fare una cosa in positivo, allora cambio di passo, primo cambiamento, non stiamo più discutendo di legge ad persona, parlando di giustizia, è già una grandissima cosa, quando saremo al governo noi vogliamo rintrodurre queste leggi che riguardano la sicurezza sul lavoro e allora quando abbiamo pensato questo titolo, abbiamo anche chiacchierato con Bruno al telefono, appunto anche con Ettore, abbiamo pensato almeno a due angolazioni, cioè primo appunto la giustizia ai tempi della crisi, prima cosa se era ancora un'emergenza parlare di giustizia, perché a un certo punto quando è caduto il governo, crisi a livelli massimi, sembrava che noi dovessimo parlare solo di spread e di come cercare di ridurre il debito pubblico e che quindi la giustizia al massimo ci dovevamo accontentare che non si discuteva più di legge ad persona, ma sicuramente era già molto. Noi abbiamo ritenuto che invece se proprio vogliamo parlare di crisi e di economia e di sviluppo, anche la giustizia fosse molto importante e quindi per esempio abbiamo insistito perché si riprendesse in modo totalmente diverso la discussione sulle norme anticorruzione che sono state citate. Non erano nelle priorità dell'agenda, non erano e forse perché noi poi ormai le notizie si consumano sempre con una ripetita incredibile, credo che ricorderete, ricordiamo come si discuteva se era una priorità o no, se era un'urgenza, è così urgente parlare di corruzione, parliamo d'altro, ci sono altre questioni. E noi venivamo da una situazione tale per cui avevamo un provvedimento che era uscito dal Senato, dove come voi sapete la maggioranza di centrodestra o meglio di Berlusconi è più forte, cioè il PDL e la Lega sono più forti che alla Camera con altri tipi di numeri, una legge che usciva dal Senato con un titolo altisonante, norme per il contrasto alla corruzione che in realtà era una scatola vuota e non conteneva niente e noi proponevamo degli emendamenti per cambiarle, modificarle, sistematicamente in commissione la Camera ci venivano bocciati da quella maggioranza. Cambio del governo si rimette come priorità perché come mai tutti sappiamo cos'è lo spread e abbiamo anche imparato a memoria che ci costa 60-70 miliardi l'anno la corruzione ci costa. Io mi chiedo cosa potremmo fare noi con quei 60-70 miliardi in anno in termini di welfare, in termini quando mancano le risorse per gli esodati e l'elenco naturalmente potrebbe essere molto lungo. Per non parlare poi del PIL e di tutte queste cose qua. E quindi è riniziata una discussione sotto un segno completamente diverso, con tutte le difficoltà del caso. Vi dico soltanto che sono stati introdotti dei significativi cambiamenti che naturalmente si cercava di contrastare con un ostruzionismo nascosto e mascherato. Io ricordo una sera ancora al Teatro Reggio c'era anche il procuratore Caselli, giustamente si denunciava, anche lei si denunciò il fatto che si cercava facendo finta di niente di bloccare con ostruzionismo e quindi che cosa si cercava di fare? Di far arrivare in aula il provvedimento come era prima, perché noi come la modificavamo? Con degli emendamenti nostri e con un maxi emendamento del governo che riguardava da un lato la parte punitiva, cioè penale, ma dall'altra una parte molto importante che non è penale, che riguarda tutto quello che si può fare per prevenire e quindi vi cito dei titoli, la trasparenza delle procedure della pubblica amministrazione, si prevede in questa legge così come è uscita seppur con delle mediazioni, quello che è stato il massimo che si è riuscito a ottenere e poi mettendo la fiducia, che una serie di procedure per esempio sono consultabili online da tutti i cittadini, il fatto che un pubblico dipendente che denuncia episodi di corruzione viene tutelato, il fatto che c'è una lista in tutte le prefetture delle aziende che operano in modo pulito, legale, che sono noti quelli che sono compromessi, naturalmente ci sono dei miglioramenti da fare perché secondo me per esempio bisognerebbe che ci fosse anche un collegamento tra tutte le prefetture e ci fosse una migliore comunicazione dei dati. Per quanto riguarda invece la corruzione, introduzione di due nuovi reati, il traffico di influenze, reato delicatissimo, che cerca di colpire la cattiva politica, quando la politica si fa mediazione del malaffare, che non riuscivi a colpirla perché tu colpivi, attualmente hai la norma che punisce il corrotto e il corruttore e non il mediatore. La corruzione tra privati, importantissimo, l'inalzamento delle pene per evitare che una serie di sanzioni di pene accessorie, con lo scattare della condizionale, non puoi applicarle. Certo non c'è tutto quello che noi avremmo voluto, una normativa sull'autoriciclaggio ad esempio l'avremmo voluto, avremmo voluto modificare la prescrizione che è stata via via abbassata sempre durante i governi berlusconi, avremmo voluto accentuare i casi di confisca obbligatoria anche se alcuni ce ne sono. Io personalmente avevo anche proposto un emendamento che stabiliva che quanto proveniva dalla confisca obbligatoria fosse impiegato in welfare ad esempio, così come avviene per i beni confiscati alla mafia. A un certo punto si è riuscita a sbloccare la situazione perché noi abbiamo con una tecnica anche parlamentare fatto approvare un emendamento durante i lavori della Commissione che ha sbloccato e non si discuteva più di provvedimento Tolfano ma di Severino. Adesso il provvedimento ha una norma molto importante, ineleggibilità quando sei stato condannato per fatti creati puniti in concreto con sentenza definitiva pena superiore ai due anni, fatti gravi, ratti di mafia e di corruzione. Io faccio anche parte della giunta con autorizzazioni quindi tocchi un tasto noto e dolente. Allora, noi avremmo voluto fare una cosa ancora più avanti che era quella di ineleggibilità con sentenze non ancora definitive ma sentenze sempre per i fatti più gravi. Abbiamo discusso una giornata intera, questa cosa non è passata dagli altri, è passata però quella cosa lì. Allora è importante che venga, capite quante cose va a toccare, che venga approvata prima che finisca la legislatura è importante, però il PDL ha detto, quindi pubblico si può tranquillamente dire, per bocca del suo capogruppo onorevole Cicchito che questa normativa sulla corruzione loro la vogliono ridiscutere e trattarla insieme alla responsabilità dei giudici e alle intercettazioni al Senato, quello che loro chiamano il trittico. Allora, vedete che qua a parte l'emergenza ci sono ancora delle battaglie da combattere, delle grosse differenze. Noi ci batteremo fino all'ultimo, non si contrabbanda, non si contratta la normativa sulla corruzione né con le intercettazioni né con la responsabilità civile dei magistrati. Perché? Si è parlato qua di diritti. Allora noi quando pensiamo alla giustizia pensiamo sempre, giustamente, ai processi per la corruzione eccetera che hanno molto a che vedere con la tutelizia, con la democrazia, come è stato detto. Però qui sono stati citati dei casi molto importanti, in processo Eternit, nel processo Thyssen, penso anche a pronunce non in campo penale, penso ai giudici che si sono pronunciati sulle libertà sindacali, per esempio a Pomigliano. Allora, noi pensiamo che se vai a toccare la responsabilità dei giudici in senso negativo questo non sia influente su questo tipo di processi, pensiamo che questi diritti possono essere ugualmente garantiti se un giudice deve temere, non se fa qualcosa dolosamente come già la legge stabilisce che possa essere in un qualche modo sanzionato, ma se fa tra virgolette un errore di diritto, che è uno dei motivi, cioè tecnicamente lo può impugnare, può andare fino in Cassazione, quindi se c'è una difformità tra una pronuncia di un giudice di primo grado e secondo grado per errore di diritto, allora pensiamo a sentenze innovative come quella sulla Thyssen, in cui viene stabilito che fatto un omicidio colposo è doloso perché si ritiene che ci sia addirittura l'intenzione nel non voler prevedere. Casomai l'ipotesi del terzo tipo dovesse essere capovolta questa sentenza, che cos'è? Cioè è sanzionabile il giudice? E dovrebbe risponderne direttamente col suo patrimonio? Ecco, allora di cosa stiamo parlando? Noi su questo non intendiamo fare nessuna trattativa e soprattutto guardate questo emendamento cosiddetto Pini del collega leghista, è stato inserito, era talmente urgente, è inserito in una normativa sulla legge comunitaria, neanche sulla giustizia, infatti da noi non è passato in Commissione Giustizia, è passato così a uma uma. Stessa cosa sulle intercettazioni, perché poi di cosa parliamo? Anche le indagini, le inchieste, qui a Torino giustamente è stata evocata un'importantissima inchiesta, l'inchiesta Minotauro che riguarda la presenza e l'infiltrazione dell'Andrangheta al nord, delle mafie al nord che hanno molto a che vedere con l'economia, con lo sviluppo, con la democrazia e con l'inquinamento della politica, senza le intercettazioni questi reati diventano molto difficilmente perseguibili. E questo quindi, la giustizia al tempo della crisi ha molto a che vedere con la tutela dei diritti. Io voglio dire ancora due ultimissime cose. Io penso che la giustizia oggi noi dobbiamo avere la consapevolezza di intenderla in senso molto ampio, come globale tutela dei diritti, non solo il processo penale. E penso che da questo punto di vista, proprio perché noi difendiamo la cultura della legalità a tutto campo, non è che siccome c'è la crisi si fa l'economia sui diritti, no? Non si fa la spending review sui diritti. E quindi lo statuto dei lavoratori non si tocca, mi dispiace. mi si tocca lo statuto dei lavoratori. E chiudo dicendo che in questo senso appunto la cultura della legalità, ecco per noi, per noi del Partito Democratico, la differenza tra noi e la destra è che per noi la cultura della legalità è a presidio dei diritti e della democrazia. Per altri la legalità è uno strumento per stabilire dei privilegi per pochi. Anna Rossomando appartiene ancora a coloro che pensano che la differenza tra destra e sinistra non sia una bagianata, no? No. Vi invito a lei, è uscito un piccolo libro che inaugura una collana della terza, scritto da Luciano Canfora, che è proprio dedicato a dimostrare la falsità della tesi che sinistra e destra non hanno più ragione di essere distinta. Voglio arrivare a dire, parliamo di sinistra moderno, mi sta bene. Però poi arrivo a dire, io vorrei fare una cosa, prima di fare una domanda ancora a Bruno Pesce, se mi promette di essere molto breve, vorrei chiedere, perché qui c'è Antonio Bocuzzi che è un deputato del PD, il deputato che io ringrazio sempre perché a me non sta tanto simpatico Veltroni, ma lui è la cosa giusta che ha fatto Veltroni e che non è un superstite, è il superstite della Thyssen. Lui mi ha detto prima, è per questo che gli chiedo di parlare, che vuole dire una cosa che riguarda i risarcimenti dell'Eternet, il superstite della Thyssen che viene solo a dirci una cosa importante, secondo me è una, è come dire, una suggestione in questo dibattito. Sono un po' grovigliati. Innanzitutto io ringrazio tutti per avere, coloro che hanno realizzato e pensato questo dibattito importante, anche perché mette insieme due elementi fondamentali, da una parte il lavoro, dall'altra la giustizia, io credo che anche nella giustizia si può ritrovare la dignità dei lavoratori, noi l'abbiamo fatto nel nostro processo, nel processo Thyssen, credo che la stessa cosa sia passata attraverso il percorso del processo Eternet. Quello che volevo dire è che il processo Eternet va avanti, sono stati riconosciuti i due imputati, gli schmidaini e Descartier colpevoli, ma ad oggi non sono ancora state riconosciute le provvisionali, quindi un diritto riconosciuto viene evaso da coloro che sono stati riconosciuti colpevoli in quel processo, è quello che abbiamo fatto insieme al collega Esposito, insieme alla collega Anna Rossomando e a tutti i parlamentari piemontesi è produrre una mozione che ponga il governo nella condizione di trovare una soluzione perché queste provvisionali vengono evase dai due imputati e una soluzione può essere quella che va innanzitutto nell'agevolazione della traduzione della sentenza e in secondo luogo anche mettere in piedi tutte le condizioni per rendere la sentenza esigibile per chi è stato riconosciuto questo diritto, anche perché le parti civili da sole non possono affrontare questo percorso, anche perché costa circa 5.000 euro per ogni parte civile, in quanto i due imputati, uno risiede in Belgio e l'altro in Svizzera. Chiudo solo dicendo una cosa, per me la differenza enorme che esiste anche nell'interpretazione di legge, della legge che c'è tra destra e sinistra è che per alcuni le leggi si applicano e per taluni, amici di qualcuno, si interpretano. Così è stato nel tempo e mi auguro che così non continui ad essere. Grazie. Ecco, quello che ha detto e che ce l'ha contato Boccuzzi mi aiuta a fare la domanda, che è questa? C'è stata questa sentenza, le sentenze sono giustizia, poi però o producono che uno va in galera è condannato, ma queste non sono sentenze da galera, qui non è importante la pena, qui è importante l'effetto di quella sentenza. Allora, non l'abbiamo citato, citiamolo, come la maggior parte delle sentenze che ha emesso quando era pretore e che ha ottenuto da quando è un pubblico ministero, Raffaele Guarignello, che è un personaggio che viene spesso non citato, ma che è l'anima di queste sentenze. Allora, vorrei capire che cosa può succedere, perché tu prima hai raccontato quella storia terribile, io l'ho sentita raccontare da una biologa che mi avevate indicato tu e il tuo collega, che non mi ricordo mai come si chiama, una biologa di Casale Monferrato, che eravamo seduti al bar, questa biologa mi ha detto, sai io ho studiato le correnti dei venti di Casale per anni, mia madre è morta di mesotelioma e ho scoperto, mi ha detto, che più o meno in quel quartiere là, me lo indicava, ne moriranno mille. Qui io, mi ha detto, sono un soggetto a rischio, posso morire, posso non... ecco, che cosa si può fare adesso con questa sentenza? Cosa può servire per questo? Serve molto a noi e nel resto del mondo, è già stato detto all'inizio che è stata presa ad esempio e ha rilanciato la lotta contro l'amianto per metterlo al bando in decine di altri paesi. In Brasile, dicevo prima, la Corte Costituzionale ha sentito anche i periti della Procura di Torino, Terracini ed altri, proprio perché potrebbe addirittura pronunciarsi la Corte Costituzionale brasiliana circa l'incostituzionalità delle norme che consentono ancora di utilizzare l'amianto nella maggioranza degli stati brasiliani, Brasile è una federazione di stati. Serve molto, allora cominciamo da quanto ho detto poco fa Bocuzzi, noi ci siamo sempre incontrati perché durante il processo Tisse noi andavamo da loro e loro venivano da noi al processo Eterni, i nostri familiari con i loro familiari hanno ovviamente non solo solidarizzato ma anche proprio fraternizzato addirittura, prevede delle provisionali, le provisionali cosa sono? Sono una specie di acconto in attesa che un eventuale pronunciamento di una magistratura civile quantifichi il danno per le vittime, in questa attesa ci sono 800 circa provisionali, cioè liquidazione di una specie di acconto che sono dalle 30 a 35 mila Euro pro capite immediatamente esecutive, questo è un altro punto forse anche di civiltà non solo giuridica ma anche se un Paese ci tiene a essere civile o meno. Questi due signori, il barone belga, parente della casa reale belga, non sono gente qualunque e il miliardario svizzero, senza dirlo esplicitamente il loro atteggiamento è questo in poche parole, se siete capaci a venircelo a prendere i soldi, venite, provate a venircelo a prendere, il senso è questo. Per fare delle esecuzioni all'estero costa parecchie migliaia di Euro in Belgio e potrebbero ciascuno pro capite e potrebbero costare in Svizzera fino ad alcune decine di migliaia di Euro pro capite, se vogliamo usare una frase lo consueta, cascalasino diciamo così, attuare fino in fondo una sentenza che in primis, noi l'abbiamo sempre detto, i risarcimenti vengono dopo, prima vogliamo giustizia per chi non c'è più, non possiamo dargli dei soldi a chi non c'è più, questo è chiaro e quindi prima di tutto la colpevolezza va evidentemente sanzionata, individuata e questo processo è stato esemplare, benissimo, dopodiché però a queste, ieri è venuta da noi una signora che ha perso il marito di 38 anni, 38 anni, con un bambino di 2 anni e aveva le lacrime agli occhi questa signora perché diceva la provisionale io ce l'ho ma chissà quando la prendo, chissà quando la prenderò, c'è ancora un ragazzo che va, un bambino quando è morto di 2 anni e un altro che va a scuola, ecco diceva io, porca miseria, questi 30 mila Euro mi farebbero comodo perché a volte con l'affetto più caro se ne va l'unica fonte di reddito e per i cittadini, non i malati o i deceduti per ragioni professionali ma quelli per l'inquinamento ambientale che noi chiamiamo i cittadini per distinguere dai lavoratori, non hanno l'Inail, non hanno nulla, non è mica una cosa da niente, c'è il fondo delle vittime appena conquistato che è un obbrobbio perché taglia fuori ancora i cittadini, dà qualcosa in più a chi è già l'Inail, io pur essendo un sindacalista dico non è giusto e allora cosa facciamo? Bene, noi abbiamo scritto in primis al Ministro Balduzzi che si è interessato anche quando il Comune di Casale aveva fatto quello, secondo noi questo obbrobbio, di accettare, aveva già deliberato, il Consiglio Comunale a maggioranza, aveva deliberato di accettare 18 milioni di Euro dall'impuntato svizzero per ritirarsi alla vigilia della sentenza, dal processo e dai futuri nuovi procedimenti che ci saranno ancora, ci sarà un eterni bis, un eterni ter e così via perché ci sono altri deceduti, altri morti, quindi i processi andranno avanti. Bene, noi abbiamo chiesto a lui e poi al Ministro di Grazia e Giustizia, al Ministro del Lavoro, una cosa analoga che hanno chiesto i deputati del Piemonte che illustrava prima Boccuzzi, cioè che lo Stato patrocini le esecuzioni all'estero, va bene, c'è anche una norma europea che lo prevede per i casi meno ambienti, il cittadino italiano o il cittadino francese della comunità europea se deve ad esempio effettuare delle esecuzioni all'estero lo Stato può patrocinare perché una sentenza va attuata. Che paese è un paese che assiste a migliaia di vittime con una sentenza inapplicata? Perché due signori dicono se siete capaci venite a prendere i soldi. Che paese è un paese che sta lì a guardare senza intervenire di fronte a una cosa del genere? È un paese civile questo? E allora abbiamo chiesto, e io spero proprio che questi Ministri, che essendo dei tecnici, che abbiano anche una mente e diciamo come si suol dire in gergo popolare, un cuore, che capiscono che la nostra non è una richiesta campata in aria, cioè uno chiede, noi c'è un proverbio che dice ciamale e metà vivi, cioè chiedere è già qualcosa, no, qui c'è una sentenza in nome del popolo italiano emanata in nome e forse anche il governo fa parte del popolo italiano e quindi noi siamo abbastanza convinti che già lunedì avremo tre Ministri a Casale, che ci sia un pronunciamento su questo e per il resto guardate che quella sentenza, io ho finito, cosa può servire? Può servire come? Purtroppo i tempi della giustizia sono lenti e a volte i cittadini ce lo rimproverano noi, ma noi diciamo noi non possiamo fare un'estorsione, non possiamo andare a fare un rapimento per accelerare i tempi, dobbiamo andare per via legale e non fare altre scelte e allora un domani che speriamo il più presto possibile consolidando una sentenza di questo tipo in Cassazione, tutti i cittadini di Casale, tutti i cittadini di Cavagnolo, provincia di Torino, che sono strettamente legati con noi, a partire dall'amministrazione comunale ultima e in avanti, non il sindaco quello che è andato in prigione prima ovviamente, avranno diritto a richiedere un risarcimento per il danno da rischio, poi magari il Dottor Caselli può spiegarlo meglio, perché il disastro anche se non si fosse verificato, ha comportato rischio per tutti i cittadini di Cavagnolo, per tutti i cittadini di Casale e se tu metti una bomba, la nascondi qui, mi sottoponi a rischio, io ti chiedo i danni domani, ti chiedo i danni perché hai fatto vivere io e la mia famiglia con l'incubo, con la paura in questo caso di incontrare un mesotelioma per anni e fino a quando campi tu hai paura di morire di mesotelioma, il minimo dolorino alla schiena che abbiamo noi, se il giorno dopo ce l'hai ancora, cominci a impalidire, a avere qualche brivido e cominci a dire adesso cos'è questo? Il dolorino alla schiena è sintomatico del mesotelioma, un po' di tosse, non sempre con qualche linea di febbre, spesso a volte sì, con qualche linea di febbre, una bronchite, una pleurite qualsiasi, da noi viene interpretata subito male, quindi questa sentenza ha stabilito il diritto al danno da rischio, è chiaro? E quindi in prospettiva, lo so che i tempi, noi siamo sempre poi interpretati, ma bisogna aspettare, io sono per fare, se tu non vuoi fare perché c'è da aspettare, non lo so io, io dico che bisogna fare e continuare a lottare fino in fondo, non so se ci vorrà un anno, sei mesi, dieci anni, però essendo giusto va fatto, proprio perché è giusto farlo. Anna, Anna Rossomando è, abbiamo detto, un deputato nella Commissione di Giustizia, è innanzitutto un avvocato, un avvocato penalista che viene da una tradizione familiare di grande cultura giuridica e io vorrei chiederti spassionatamente, abbiamo parlato della corruzione, ma quando ci si avvicina di più a queste vicende e alle riforme legislative che riguardano queste vicende, quanto c'è, io capisco che in questo momento fare leggi non è facile, anzi non si fanno perché c'è il governo dei tecnici, incombrono le elezioni, forse si faranno in aprile, forse si fanno un po' prima perché forse si scioglie il Parlamento a dicembre, non si capisce bene come va, ma quanto c'è nel tuo partito, quando parli con i tuoi colleghi, quelli diversi da Boccuzzo, perché con lui è facile parlare di queste cose qua, ma quanto c'è la voglia di cambiare queste norme, là dove bisogna cambiarle? E tu prima hai detto, noi, questo è un nostro patrimonio, un patrimonio del PD, della sinistra, la diversità con la destra sta proprio su questi temi, ma quanto c'è nel partito dibattito su questo, in questo momento, perché si sta preparando una campagna elettorale, si sta preparando un programma di partito, probabilmente poi di coalizione? Grazie di questa domanda, ma io vorrei dire questo che vale anche in altri casi, noi siamo un partito che vuole essere maggioranza nel Paese, quindi un partito che vuole superare il 30% necessariamente con una base comune a una dialettica interna e questo è una ricchezza, la questione poi è arrivare a delle decisioni chiare, prese anche a maggioranza e su una serie di temi, non ultimo quello del lavoro, non da oggi, queste decisioni, questi punti sono appunto stati poi approvati, anche con un dibattito molto ricco. Noi in questa porzione di legislatura, come dicevo, stiamo cercando di dare degli assaggi fin dove riusciamo a conquistare consenso in questa maggioranza anomala. Abbiamo proposto una legge sulla questione degli esodati, su cui ha lavorato molto la Commissione Lavoro, che reca le firme anche di esponenti della parte berlusconiana. Inaspettatamente in una capigruppo il PDL ha detto che non era una priorità delle leggi a discutere a settembre, quindi questo è un punto. Ora per rispondere spero ancora più puntualmente alla tua domanda, io credo che debba essere assolutamente chiaro che anche quando noi discutiamo con diverse posizioni, ad esempio sfumature, più che posizioni sfumature sullo sviluppo, sul mercato del lavoro dentro il partito, i diritti sono fuori discussione. Io credo che sia attuale e debba essere ormai chiaro che quando noi guardiamo all'India sulla maggiore produttività, non è che guardiamo al fatto che ci sono meno tutele sul lavoro, perché se io per adeguarmi io non accetterò mai e questo è il punto dei progressisti, la battaglia dei progressisti non solo in Italia. Per quello non basta più l'Italia, ci vuole l'Europa, ci vuole rilanciare in avanti e in più ampio. Gian Maria Flick aveva scritto un libro, una raccorta che si intitolava La globalizzazione dei diritti. È un modo diverso di intendere la globalizzazione, perché non basta più soltanto il tuo paese. Allora io se guardo all'India voglio guardare gli ingegneri molto preparati dell'India a una grande preparazione, non voglio guardare a quello che ho visto una volta su un programma di Raitrea, operai che lavoravano spenzolati dai fili o persone che dormivano in strada con delle brandine a bordo strada. E per fare questo però ci vuole un fronte unito dei progressisti per fare questo. Ecco perché parlare di Europa, parlare di unità, di Europa politica non è una cosa astratta o così di teorie politiche lontane, è una questione che ci riguarda, che ci riguarda moltissimo perché io penso che anche nella cosiddetta antipolitica, nel distacco, nella rabbia che c'è in questo momento, che porta purtroppo a dire via tutti, la politica non si è tutti, indistintamente tutti. Perché? Perché in questo momento la crisi picchia duro, cambia le tue condizioni di vita e ciascuno in maniera più o meno conscia percepisce di non poter influire, sente l'impotenza di non poter influire direttamente con le decisioni su queste cose che però gli arrivano addosso. Allora il compito nostro ora è di cambiare sicuramente in Italia, ma di cambiare in Europa per riportare e riaffermare un principio appunto che è quello della democrazia, di poter cambiare il proprio destino e in questo senso quindi una battaglia di libertà. una battaglia di libertà e poi naturalmente si discute, possiamo discutere se la produttività come la vogliamo interpretare o non interpretare. Io credo che però in questo momento sia maggioranza nel Partito Democratico questa consapevolezza che per certi versi, diciamolo, perché noi dobbiamo avere l'orgoglio ma anche sapere dirci delle verità. Certamente molti di noi possono avere anche cambiato alcuni punti di vista perché dal 2008 a oggi non siamo nella stessa situazione e io credo che un partito, queste occasioni, le nostre discussioni servono a fare un'analisi che è il presupposto per fare politica. Analisi, proposta e azione si soleva dire in alcuni casi. Spero di non avere l'uso la domanda. Perché l'ultimo intervento e chi risponde per l'ultimo è Giancarlo Caselli, Caselli può dire ciò che vuole parlare di un tema che solo se non si è colto bene quello che diceva Caselli può sembrare stravagante rispetto al titolo del dibattito. Caselli ha illustrato molto bene prima la cosiddetta economia illegale, economia criminale italiana e come essa condizioni non solo il Mezzogiorno ma tutta l'Italia e condizioni pesantemente l'economia italiana, le mafie. Ha fatto un elenco di cosa fanno le mafie, secondo un'ipotesi accusatoria della Procura di Palermo le mafie fanno anche trattative e lui prima ha parlato della sticella, questa sticella nelle ultime settimane è stata alzata moltissimo ed è giunta, sia pure a livello di polemica, non di di inchiesta giudiziaria a livello del colle più alto di Roma. Caselli è stato anche protagonista di recente, è salito su un palco, nessuno fa polemica se Caselli viene su un palco politico come questo, questo è un palco politico perché non è detto, è stato anche fatto, è andato su un palco di un quotidiano ed è stato attaccato, è un giornale che non appartiene a forze politiche, in un organo di partito, è un giornale, quindi è molto più smarcato di questo palco perché era sul palco insieme a due PM di Palermo a ricevere le firme sulla vicenda della trattativa e dell'inchiesta sulla trattativa raccolte dal fatto. È una notizia di queste ore che il, non mi ricordo se è Gup o Gip, ma mi sembra Gip, che deve decidere sulla richiesta della Procura di Palermo riguardo gli imputati della trattativa che è il segretario nazionale di magistratura democratica, si è dimesso e ha annunciato che oltre a dimettersi non si ricandida per essere, come dire, per dare un segnale di estremo distacco nel momento in cui deve decidere. È una vicenda molto pesante che poi coinvolge, come sappiamo, la Presidenza della Repubblica che ha fatto un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale che dovrebbe essere imminente come decisione. Vorrei chiedergli, questa è un'altra storia dove quando si toccano poteri, quando si toccano istituzioni, la magistratura diventa un problema. Prima lasciami come sempre dire un altro paio di cose ricollegandomi al dibattito e agli interventi che mi hanno preceduto su punti che mi sono sembrati particolarmente interessanti. Prima vorrei litigare un po' con l'Anna Rosso Mando, parlando delle leggi ad personam, se ho capito bene ha detto, sono state votate, semplifichiamo dal centro-destra, centro-sinistra non le ha votate, quantomeno è riuscito a fare in modo che ce ne fosse qualcuna di meno, adesso col governo dei tecnici per fortuna non se ne parla più. Mi scuserà Anna Rosso Mando, ma secondo me mancano due passaggi nel suo discorso, o perlomeno io avrei introdotto due passaggi. Primo, ricordare che quando il centro-sinistra è andato al governo queste leggi non le ha cambiate. Secondo, è ancora più importante, ma questa è una cosa che direi a qualunque forza politica con la quale mi trovassi ad interloquire, qui lo dico alla forza politica che mi ha invitato questa sera e sono grato, ma ripeto, riguarda qualunque, chiunque domani vada a governare queste leggi a persona, lo direi persino a coloro che le hanno votate sui al centro-destra, per favore le faccia sparire dal nostro ordinamento. Perché il discorso nostro di questa sera, legalità, democrazia, sviluppo, rischia di rimanere astratto se non ci diciamo che queste leggi a persona possono alterare, come hanno alterato la qualità della nostra democrazia, ma hanno anche un'incidenza diretta sul nostro sviluppo. Il falso in bilancio, finché è congegnato come è congegnato ancora oggi, disincentiva gli investimenti stranieri nel nostro paese. Se io, investitore straniero, voglio venire in Italia, nel momento in cui apprendo che il falso in bilancio non è punito, negli Stati Uniti 25 anni di galera effettivamente inflitti insieme all'interedizione perpetua dalle attività imprenditoriali di quel tipo, e io imprenditore straniero non ci vengo, perché magari non mi sento sufficientemente garantito, così come non ci vengo se il processo civile non funziona, perché se ho un contenzioso e ci vogliono 10-20 anni perché questo contenzioso sia risolto dalla magistratura, vado a investire da qualche altra parte. Quindi sono questi problemi che riguardano non soltanto la purezza dell'ordinamento, ma hanno delle ricadute pesantissime proprio sullo sviluppo economico del nostro paese. Secondo punto, la responsabilità civile dei magistrati. Chi sbaglia paga, è un principio sacrosanto, vale per tutti, deve valere per tutti e anche per i magistrati. E infatti nel nostro ordinamento ci sono già, non ho il tempo di esporvere, fate un atto di fede, una serie imponente di norme che fanno sì che il magistrato quando sbaglia, ma sbaglia in maniera non rimediabile all'interno del meccanismo processuale attraverso i tre gradi di giudizio, se un sistema prevede i tre gradi di giudizio vuol dire che prevede la possibilità di errori che possono essere corretti all'interno passando da un grado all'altro, quando il magistrato sbaglia più gravemente e diversamente nel nostro ordinamento paga, può pagare di più, può pagare meglio per così dire, va bene, è un argomento molto difficile, si può benissimo discutere, si può benissimo migliorare la disciplina della responsabilità dei magistrati, anche quella civile, ma non con un emendamento pensato di notte, probabilmente una notte insonne e tirato fuori la mattina dal cilindro come fosse il coniglio di un prestigiatore, perché nasce così, nell'ambito della conversione in legge nazionale di una direttiva europea, dicendo l'Europa ce lo chiede, l'Europa ce lo impone e vi prego di credere, lo avete letto, un intervento di Vladimiro Zagrebelsky, non di Gustavo, Vladimiro scrive sulla stampa, Gustavo su Repubblica, quindi Vladimiro Zagrebelsky sulla stampa ha dimostrato che è un falso dire con riferimento a questa legge che l'Europa ce lo chiede, che l'Europa lo vuole, che noi dobbiamo approvare questa legge per metterci al passo con l'Europa, è semplicemente falso. Allora questa è una materia delicata, bisogna discuterla e ragionarvi con serietà, non usare questo strumento come fosse una specie di bastone da brandire contro il magistrato scomodo. E ancora una volta, rigiarcimenti danni, multinazionali, interessi economici formidabili vengono in gioco e per concretizzare il nostro discorso anche di questo dobbiamo parlare. Il mestiere del magistrato è un mestiere difficile come tanti altri, la difficoltà del mestiere del magistrato consiste nel fatto che deve sempre, sia quando si tratta di ricostruire il fatto, sia quando si tratta di interpretare la legge, scegliere tra tante opzioni, a volte tantissime, a volte un paio, ma sempre sono più di una, opzioni possibili. Se è libero nel fare questa scelta, cercherà di agire soltanto secondo scienza e coscienza nel rispetto della legge, della lettera della legge, nel quadro interpretativo che la legge consente, avendo dimila però un interesse di carattere generale i principi scritti nella Costituzione. Se non è libero, perché magari se fosse approvata questa legge sarebbe così, gli viene prospettata una tempesta selvaggia, per la mancanza di regole precise e definite, l'errore in diritto è questo, se in primo grado si dice una cosa e l'appello si riforma, apreti cielo, una tempesta selvaggia che lo espone alle rappresaglie, alle intimidazioni, alle riduzioni del soggetto che non vuole il processo o che non accetta l'esito del processo, il magistrato più o meno consapevolmente, non oggi ma magari domani e dopodomani, comincerà a chiedersi cosa mi conviene fare, che cosa mi espone di meno a queste rappresaglie e sceglierà la via più comoda e nel processo ThyssenKrupp e nel processo Ethernet sono convinto che ci saranno ancora tanti, tantissimi Guarignello, Sara Panelli, Francesca Traverso e quanti altri hanno fatto questo processo, ma con una legge di questo tipo c'è il rischio che ce ne siano un po' di meno e che allora dovendo fare processi di questo tipo con dei colossi economici, dei colossi economici come questi che non ci mettono niente a scatenare un esercito di avvocati europei e non soltanto nazionali, è di fronte a questa prospettiva e scusatemi, ancora una parola per quanto riguarda proprio le provvisionali, qui è difficile dire qualcosa dopo le cose tecnicamente ineccepibili ma soprattutto di vita vissuta, cupamente, tristemente vissuta da parte di Pesce e da parte delle altre parti civili che lui ha ricordato, questo è un grave problema, soltanto per accenno c'è anche un problema europeo, un problema di giustizia europea, di coordinamento europeo, un problema di comunità europea che deve muoversi su questo versante, qualcosa si sta cercando di fare per superare la barriera dei confini che oggi è invalicabile e lo è in particolare per quanto riguarda l'esazione di quello che è dovuto in base alla sentenza italiana quando si deve eseguire all'estero, però bisogna muoversi, i tempi sono lunghi, i tempi sono terribilmente lunghi e sono lunghi anche i tempi del nostro processo, per quanto riguarda Tissen Group l'appello è sostanzialmente fissato e si comincerà anche il processo d'appello a breve, con un calendario, lo vedranno, Eternit seguirà subito dopo, poi ci sarà la Cassazione e se saranno confermate le condanne in appello in Cassazione ci sarà poi il problema della sacrosanta, giusta, esazione di ciò che è dovuto, di ciò che spetta in base a queste sentenze. Di quella sentenza di Cassazione forse c'è anche un margine di tempo sufficiente perché l'Europa si faccia carico in modo concreto con delle direttive, con degli orientamenti, con delle leggi che debbano essere recepite dai singoli stati molto importanti. Finalmente, e qui mi riaggancio citando un passo dell'intervento dell'Avvocato Rossomando alla domanda di Ettore Boffano, a nostro mando ha detto, con riferimento all'Ilva soprattutto, se la politica non fa il suo mestiere c'è solo la sanzione, ma così non va, perché la sanzione non può risolvere tutto, è sacrosantemente vero e mi porta a parlare di quella sticella di cui vi ho detto all'inizio e sulla quale è tornato Ettore Boffano. La giustizia in Italia soffre di una crisi di cultura, ne abbiamo parlato prima, a giudicare in base alla convenienza, ma anche di una crisi di efficienza e di una crisi che io chiamo della sticella. Una parola sulla crisi di efficienza, perché si ricollega di nuovo ai tempi, si ricollega di nuovo. I processi in Italia, lo sappiamo, purtroppo non finiscono mai, ma non credo che il nostro paese sia vittima di una sorta di dannazione celeste, per cui quello che funziona in tutti gli altri paesi di democrazia occidentale soltanto da noi non deve funzionare. Io comincio ad avere sospetto, forse più di un sospetto, che non si voglia far funzionare la giustizia perché a qualcuno non convene che funzioni, non capisco, perché alcune cose che si possono fare nel giro di mezz'ora a costo zero non si facciano. Vi faccio soltanto due esempi per dire che non sto parlando del libro dei sogni. In tutti i paesi del mondo c'è la prescrizione, perché nessuno Stato pretende di arrivare a sentenza quando è passato troppo tempo dal momento della commissione del fatto, perché non è più economicamente conveniente, perché non ha magari anche più senso, nel senso che il fatto è magari dimenticato, le persone sono cambiate, in tutti i paesi c'è la prescrizione, però in tutti i paesi, ma proprio tutti, senza eccezioni, tutti, la prescrizione ha delle interruzioni con il rinvio a giudizio o con la sentenza di primo grado o con la sentenza d'appello. Da noi no! Da noi la prescrizione comincia e non finisce mai, non si interrompe mai. Ecco il discorso che facevo prima del processo o per le persone considerate per bene a prescindere in base al censo o in base alla collocazione sociale. Se la prescrizione non finisce mai, tutta la convenienza a portarla per le lunghe, allungare il brodo del processo in modo da arrivare alla prescrizione. Questa è una sconcezza che la prescrizione non ha interruzioni soltanto nel nostro paese, che deve finire e può finire con due righe dalla sera alla mattina a costo zero. E il nostro sistema non funziona, anche perché le nostre procedure sono qualcosa di incredibile. Più barocco, più labirintico di così, non si può. Pensate, faccio un solo esempio, banale, da ridere, ma spero che sia sufficiente. Nel nostro sistema l'imputato di un reato da niente, reato come diciamo noi con il nostro gergo bagatellare, confesso, ammette la sua responsabilità, condannato al minimo dei minimi della pena, questo imputato, confesso, condannato al minimo dei minimi della pena per un reato da niente, va sempre in appello, sempre. In appello cosa succederà? Confesso, minimo dei minimi della pena, la pena stessa sarà confermata. A questo punto cosa fa l'imputato? Sempre va anche in Cassazione e così fanno tutti sostanzialmente, perché non ci sono filtri per il passaggio dal primo grado all'appello e dall'appello alla Cassazione. Ci si può sempre andare, anche se non ce n'è nessun motivo, anche con l'infondatezza più assoluta, evidente fin dal primo momento, anche con i pretesti più evidenti per guadagnare tempo, allungare il brodo. Non ci sono filtri, ma allora in questo modo il sistema implode. Il carico che il sistema complessivamente deve sopportare è troppo pesante, il sistema non ce la fa, perde colpi e i processi diventano sempre più lunghi. Ma se non facciamo questa riforma, anche qui a costo zero, si può andare in appello in Cassazione soltanto quando ci sono i motivi per poterlo fare. Basta con gli appelli e con i ricorsi in Cassazione meramente pretestuosi, dilatori per perdere tempo. Torniamo di nuovo a parlare di cose che si potrebbero fare dalla sera alla mattina e non si fanno e si si deve domandare perché. Ma c'è poi la crisi dell'asticella e qui è la frase dell'Avvocato Rossomando, ci sono tanti problemi che la politica non riesce a risolvere o preferisce neanche affrontare e che vengono, è storia del nostro Paese, delegati alla magistratura e alle forze dell'ordine. È successo per il terrorismo, è successo per le strasi di destra, è successo per la corruzione, è successo per la sicurezza sui posti di lavoro che a Taranto l'Ilva debba essere il magistrato ad intervenire, suscitando poi tutta una serie di polemiche comprensibili, ma diventano incomprensibili nel momento in cui nessuno ha mai fatto niente e tocca al magistrato poi con la sanzione che se è soltanto essa presente non è sicuramente la soluzione. E la stessa cosa alla delega è successa per la mafia e in particolare per i rapporti tra mafia e politica di cui il discorso, l'inchiesta rubricata come pubblicisticamente sulla corruzione è un anello. Delega ma con l'asticella e cosa significa con l'asticella? che chi delega però idealmente, mentalmente traccia un'asticella oltre la quale non puoi andare. Io ti delego, ma se per caso superi questa asticella, cioè facendo il tuo dovere nell'ambito di quello che ti ho delegato perché non so risolvere il problema, superi un'asticella, cioè incroci determinati interessi, ecco non vai più bene. E per la mafia questo è successo regolarmente, è storia della mafia. Falcone Borsellino, che noi ricordiamo giustamente come eroi, in vita furono professionalmente parlando bastonati e Falcone fu costretto ad emigrare da Palermo perché di più nessuno lo voleva. E quando è che Falcone Borsellino e gli altri non vanno più bene? Prima andavano bene, però a un certo punto non vanno più bene. Quando cominciano ad occuparsi di Ciancimino padre, dei cugini salvo, Andreottiani e dei cavalieri del lavoro di Catania, cioè quando cominciano ad occuparsi di mafia politica, mafia finanza, mafia economia, mafia istituzioni, fine del discorso, non andate più bene, bastonature professionali e Falcone costretto ad emigrare. E poi un po' la stessa cosa, non esattamente la stessa cosa, ma poi la stessa cosa succede anche a noi della Procura di Palermo, dico noi perché è il periodo in cui vado a deligerla, che dopo le stragi cerchiamo di, con i nostri limiti, riprovare a fare quello che ci avevano insegnato Falcone Borsellino. Finché ci occupiamo di Rina e Soci va bene, ma quando cominciamo ad occuparci di Andreotti o di Dell'Utri per fare soltanto i drum più importanti non va più bene e cominciano anche lì le basti natura immediate. Oggi la situazione è particolarmente incandescente, anche per quanto riguarda le polemiche contro la magistratura, perché incandescente al calor bianco è il lavoro che la magistratura di Palermo, la Procura di Palermo sta facendo. Attenzione, tutto si può criticare, anche questa inchiesta, con riferimento a questa inchiesta si possono avere le idee più diverse ed è legittimo in democrazia pensarla come ognuno crede giusto, ma in un quadro che deve essere, non può essere, mai come in questo caso è necessario che sia, di rispetto per il lavoro dei magistrati, che in questo caso stanno facendo un lavoro difficilissimo, io sono magistratura da 45 anni, lo giuro, prego di credere, in 45 anni non mi è mai capitato, ne ho viste di tutti i colori, lo ricordava Bofano, ma non mi è capitato di vedere neanche lontanamente un'inchiesta così difficile, così complicata, così tortuosa, basta leggere il capo d'accusa, l'avete letto sui giornali, il capo d'accusa riunisce in un circolo unico pezzi, personaggi, soggetti estremamente eterogenei, molto diversi fra loro, alcuni mafiosi di primaria grandezza criminale, Rina, Brusca, Bagarella, Provenzano e Cinà, tre alti ufficiali di uno dei corpi più specializzati del nostro paese nella lotta alla mafia, generale Subranni, il generale Mori e il colonnello De Donno e poi il senatore Mannino e il senatore Dell'Utri. Il capo d'accusa poi fa riferimento ad altri soggetti di primaria grandezza del nostro panorama istituzionale che non sono formalmente inquisiti perché sono morti, ma sono indicati tra coloro che del cerchio avrebbero fatto parte e sono niente meno che il capo della polizia Parisi e il vice capo dell'amministrazione penitenziaria Di Maggio. Qualcosa che parla da solo, se io avvio un'inchiesta che mi porta a formulare questo tipo d'accusa, posso essere criticato finché vogli, finché si vuole, non c'è dubbio, ma mi si deve riconoscere l'onestà intellettuale, il coraggio di aver intrapreso una strada responsabilmente, sapendo piena consapevolezza quello che mi sarebbe capitato addosso e tuttavia vado avanti perché questo è il mio dovere, parlo a nome di altri colleghi, dovere di osservanza della legge alla ricerca della verità. E però ecco che le polemiche si sono fatte incandescenti al calor bianco, il povero Ingroia è stato accusato di omicidio, l'ombra di Loris D'Ambrosio ti inseguirà fino in Guatemala, per non fare altri esempi ancora di cose poco simpatiche che sono state scatenate contro di lui. Da ultimo, e arrivo finalmente alla domanda, l'iniziativa del Fatto. Fatto ha organizzato un'iniziativa non molto diversa dalla nostra di questa sera, ha invitato varie persone a parlare, Di Matteo, Ingroia, procuratori di Palermo che fanno questa inchiesta, c'era Marco Travaglio, c'era Marco Lillo che coordinava la serata, c'era anche il sottoscritto, ma soprattutto c'era una signora, una signora di Collegno, la signora Margherita, avrete detto anche il cognome ma qui facciamo soltanto il nome, che è una cittadina che più normale di così non si può, una cittadina timida, una cittadina che era persino imbarazzata a stare sul palco. Lei è all'inizio della raccolta di quelle che diventeranno 157 mila firme, perché è un'elettrice del Fatto che scrive al Fatto dicendo, ma non si può fare qualcosa per questi magistrati che stanno facendo un mestiere molto difficile, fargli sentire la fiducia della gente? E il Fatto ha detto certo, il signor ha ragione, raccogliamo le firme, 157 mila firme e quel giorno la signora Margherita è stata invitata alla Versiliana e sul palco ha consegnato la pennetta con le 157 mila firme a Ingroia e di Matteo, a Preticielo, anche da parte del segretario nazionale dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, io francamente è un collega, è un amico, lo rispetto, ma non riesco a capire perché il capo del nostro sindacato, avendo letto come dice lui un articolo sul Corriere della Sera neanche troppo informato, conseguentemente si sia scatenato contro un iscritto, due iscritti al suo sindacato, dicendo anche che nel momento in cui si usavano degli argomenti non condivisibili nei confronti del capo dello Stato, i magistrati presenti avrebbero dovuto alzarsi in piedi, dissentire, magari alzandosi in piedi e andandosene come se fosse con un tol sol qualunque, non è scritto da nessuna parte, non siamo più ai tempi dello Statuto Albertino, nel capo dello Stato rispetto istituzionale, ma se qualcosa uno ha da dire anche su questo versante, in democrazia lo può o lo deve dire senza che i magistrati siamo costretti ad andare via. Francamente ho visto delle reazioni sopra le righe per quanto riguarda l'iniziativa svoltasi ad opera del fatto, anche per Fie, Bofano l'ho già ricordato e parla bene della concorrenza da questo punto di vista e quindi è particolarmente incomiabile, il fatto è un giornale assolutamente indipendente, un giornale che non prende neanche una lira di finanziamento pubblico, si regge unicamente sulle copie vendute e sugli abbonamenti, poi naturalmente essendo un giornale libero dice quello che ritiene nella sua libertà, discutibile, accettabile, non accettabile, criticabilissimo come tutte le cose che si scrivono sui giornali, ma che uno partecipa all'iniziativa del fatto proprio perché è un giornale libero, indipendente, autonomo da ogni palazzo politico-economico, mi sembra una cosa assolutamente non censurabile e che poi uno lì dica le cose, si dice magistrati non debbono cercare il consenso, ma in Grone di Matteo non hanno mica cercato il consenso, in Grone di Matteo hanno preso atto che sono state raccolte 157 mila firme che sono una manifestazione di fiducia, non a critica, ma di fiducia per quanto riguarda il ruolo, la difficoltà del ruolo che in questo momento i magistrati della Procura di Palermo svolgono. Ho citato la signora Margherita dicendo che è una signora come tutti noi, la signora, virgolette lo dico col massimo di rispetto e di stima qualunque, persino un po' timida e lo ha dimostrato sul palco quando ha avuto un microfono in mano, per dire che questa iniziativa non ha niente di evoluzionario, niente di barricardero, niente che assomigli al governo dei giudici o alla ricerca di un qualcosa di simile, è un'iniziativa puramente e semplicemente dei cittadini che vogliono manifestare fiducia, non sono magistrati che cercano il consenso, sono magistrati che si trovano una manifestazione di fiducia e questa manifestazione di fiducia cosa devono fare? Prenderla a calci? Assolutamente no, non credo, se non altro perché la giustizia nel nostro paese sono pronunziati in nome del popolo italiano e se il popolo italiano dice fai il tuo dovere, non ti spaventare, non ti lasciare condizionare da questo o da quello, il popolo italiano fa una cosa giusta e prendere atto di questa cosa giusta anche sul palco di un giornale come il Fatto mi sembra in democrazia assolutamente incontestabile. Il dibattito è finito e quindi non vuole più intervenire, Anna Rossomando mi prega di dire che se fossi intervenuta ancora avrebbe detto che molte delle cose che Chiaselli ha chiesto prima, delle cose che si possono fare a costo zero, sono progetti di legge e fanno parte dell'agenda del lavoro che il PD sta facendo su questi temi. Vi ringrazio tutti, avete già fatto prima un applauso quando l'ha detto Caselli, io vi chiedo di chiudere con ancora un applauso alle tutte le forze dell'ordine che sono qui per garantire a Caselli la possibilità di partecipare a un dibattito. Grazie e buonasera a tutti.